La medicina difensiva pesa sulla spesa sanitaria pubblica per 0,75 punti di PIL, ossia 10 miliardi di euro, importo pari all'IMU dell'anno 2012. I costi riguardano i farmaci, le visite mediche, gli esami di laboratorio, le analisi strumentali e i ricoveri. A tracciare il bilancio, Matteo Di Biase, presidente della Società Italiana di Cardiologia, la conferenza stampa di apertura del 75esimo congresso della Società Scientifica a Roma. Una realtà, quella della medicina difensiva, che riguarda molti cardiologi e ha diverse conseguenze, spiega Di Biase. Dalla riduzione della fruibilità dei diritti di assistenza da parte di altri pazienti che si trovano di fronte all'intasamento delle liste di attesa a rifiuto di eseguire interventi ad alto rischio e la scelta dei medici di lavorare in reparti più sicuri o meno impegnativi. Come uscire da questa situazione, si chiede Di Biase. Ebbene, si possono fare proposte come l'estensione della copertura assicurativa personale da parte dei medici, la nomina di un risk manager in tutte le ASL, la rimodulazione dell'azione penale, la ricerca di una via extra giudiziale del contenzioso che in Italia cozza però contro l'obbligatorietà dell'azione penale.